con il numero cinquantasette Marco Sportiello con il numero venti Giuseppe Bianco con il numero due Guglielmo Stendardo con il numero sei il nostro capitano Giampaolo Bellini con il numero ventidue Davide Zappacosta con il numero otto Giulio Migliaccio con il numero ventuno Luca Cigarini con il numero diciassette Carlos Carmona con il numero novantatré Bucari Dramè con il numero undici Maximiliano Morales con il numero cinquant'uno Mauricio Piniglia il nostro mister è di regna